Ciao, oggi faremo un video bellissimo, faremo una super staffetta con gli step Ci dividiamo in due squadre e vi faccio vedere cosa facciamo Ok, questi sono gli step Una squadra sarà su tre step e l'altra su altri tre step Ciada e Emma, squadre Vai, vedi, bomba, fare i miei, bellezza Napoli, Arianna Belle, allora Giada, Marti, Ale e Giulia e Emma, Leti, Marti e Arianna Allora facciamo vedere com'è? Allora Posizionate su due step Prendo uno Passo più velocemente possibile Lo appoggio, corri avanti, Marti Vai già da subito Perfetto, stop, stop La prima squadra che arriva in fondo, che oltrepassa le righe gialle, vince Vediamo Ci siete? Sì Pronte? Via! Oddio, ma ci scontriamo Vai, 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 vai Scusa, allora ho detto Scusa, allora ho detto venga pochissimo ci siete ok stop allora in realtà sì ma loro ne hanno fatto uno in meno eh sì perché voi non avevate ancora superato la riga ma se loro lo mettono più lontano e ne fanno uno in meno ci mettono meno e chi ha vinto? chi ha vinto? glielo diamo buono questo o no? no 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 non è passato Ale mi dispiace vince la prima sfida la squadra di Emma no Giadi non è passato la squadra di Emma pronte per la seconda mancia e o facciamo che lo possono mettere lontano o lo devono lasciare attaccato vai lo lasciamo attaccato siete uguali adesso alla partenza? controlla est lì per favore se sono uguali al filo della pedana perfetto ok ci siamo? pronte? via siete perfettamente pari dai 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 ha 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 v línea Un'altra volta La squadra di Emma Eravate pari Fino proprio all'ultimo Io vedevo l'arena così Io vedevo l'arena così Eh però ti prendevo E anche spingevo lei Cosa pensate ragazze? Come mai avete perso? Eeeh Non lo so Avete cercato di essere Il più veloci possibile? Sì Ok Comunque sul filo del rasoio Allora Facciamone un altro adesso Cercando di cambiare La persona Cioè di ruotare Allora io direi che dopo che l'hai posato Puoi scendere e tornare dall'altra parte No No arriva dietro che va davanti Secondo me Perché dietro non c'è posto Cioè torni indietro E invece passare Provare A passarci sopra Senza cadere? Eh Se avessi trovato Se scontriamo Ah ok Va bene Proviamo come dite voi allora Ok Ci siamo? Dai sono curiosa di vedere Pronte? Via Dai veloci Dai veloci Dai veloci Dai veloci Ale Dai 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 Ok Avete vinto Va bene Una sfida L'avete vinta Siete contente? Ok Non so se era molto regolare Questa cosa Eh? Non so se era molto regolare Questa cosa Però penso che C'erano No più che altro Che scendevano Più di quella Che doveva girare Capito? Alcune volte Cadeva Eh sì Va bene Va bene dai Fa niente Però è stato più divertente Sì Soprattutto quando vi stavate Per scontrare Va bene Vincono loro ragazze Mi dispiace Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Lasciate tanti like E ricordatevi di attivare La campanella Per non perdere tutte le notifiche Dei nostri nuovi video Ciao 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 Ciao